Qui stiamo davanti alla statua di Enrico Arnault, una dei valdesi più importanti del Seicento. Questa statua è molto speciale perché mostra un pastore che si può riconoscere la sua toga e con la Bibbia. Lui invece non è solo pastore, ma anche come scritto Duce dei Valdesi. Vuol dire che lui era anche un personaggio di qualità militare e lui era fiero di questo. Sua motto era sempre «Ultrumque Patratus», che vuol dire che sono disponibili a tutte e due funzioni, pastore e militare. Enrico Arnault era nato come studiator francese a Embrun, nel Delfinato, ma sua madre era delle Valle Valdesi e dunque, dopo i suoi studi di teologia, lui è diventato pastore nelle Valle Valdesi e ha fissuto qui fino al 1698. Suo ruolo militare era soprattutto nel 1686, quando ha difeso i Valdesi contro gli attacchi francesi e piemontesi, e nel 1689, quando aveva organizzato il glorioso Rempatrium. Nel 1698 Enrico Arnault ha dovuto lasciare le Valle Valdesi e scema a 3.000 altri Valdesi. E' andato con loro nel Germania, una parte di loro all'Asia, lui stesso con altri 1.500 nel Württemberg. Nel 1702 ha costruito una casa a Schöneberg, nel Württemberg, dove è morto nel 1721. Nel 1939 è stato aperto un museo valdese nella casa di Enrico Arnault con 115 valdesi del Piemonte e finora funziona come museo valdese. Grazie. 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 Grazie.